Eccolo, 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 questa è quella, quella sorda, lei è arrivata già, guarda lì, guarda lì, guarda lì che c'è la tua famiglia, ciao Papi Beppe, Letizia, mamma Letizia, Marilu, sorella Marilu, Tigre, Liria, tutti, papi Beppe, guarda il tuo tesoro, quello che tu hai aspettato dall'agosto, è arrivata, Ti ricordi che abbiamo preso accordo che quando arriva l'Iria e ci vediamo non siamo riusciti a fare, quando arriva l'Iria e ci vediamo non siamo riusciti a fare, quando arriva l'Iria e ci vediamo io domani non ci sto, quindi ci vediamo quando adotti il prossimo cane, non c'è tre senza quattro. Guarda Italia ti saluta, benvenuto amore, benvenuto, adesso da oggi poi la sua vita cambia perché non c'è più Pereira, non c'è più Stallo, c'è solo casa sua piena di amore. Adesso facciamo, ecco, guarda che ti sei venuta a trovare Nenemo con la sua mamma Laura, Cristina che ti ha portato proprio, è andata a Barcellona da stamattina, che è andata proprio fino a un attimo, da Barcellona a prendersi. A Cria, a Cria, eh sì, aspetta, adesso facciamo uscire Alma, però le facciamo fare la fatta buona pure un po' a Cristina, mettila. A me no perché non si riuscita. A te ti poi attacchiamo da qualche parte, facciamo cremioli pure a te, ecco, le fiebre natalizie continuano. Ecco qui, ecco, e le facciamo uscire adesso all'altra principissima, ecco, 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 ecco. Alma, che meraviglia, ma che comportamento meraviglioso. In spagnolo Alma vuol dire Anima, in russo vuol dire Dusha, in inglese vuol dire Soul, c'è bellissimo nome. Lei è bellissima. Speriamo bene che la fiebre natalizie si avrà pure per lei, lei è venuta in stallo. Però, mammi, papi, famiglie futuri, sbrigatevi, perché adesso sarà la fila per chiederle in adozione, vero? Sì, ma era bello. Possiamo iniziare già a dare auguri di Buon Natale, di feste che arrivano, Buon Natale, Capodanno, Buon Natale, Buon Natale. Buon Natale, 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 Buon Natale. Buon Natale, Buon Natale. Adottate queste creature, adottate queste creature che ieri erano inutili, che erano gente, che usa gente e che da oggi poi diventano cani, non da calcio, ma di casa, che diventano principine di casa, che vi cambiano la vita, che vi portano amore, felicità, e universo, e vi regalano universo. Adottate, adottate. Associazione Brian's Livrieri Rescue, associazione di salvaguardia e adozione dei livrieri spagnoli. Vi auguro buone feste e vi auguro buone feste. Buon Natale. Buone feste. Un livriero a testa. Buone feste, un livriero a testa.